Io vi posso aggiornare la percentuale mia, la volete? Ve la do, ve la do, ve la do. La lanciamo regia, mandiamo la percentuale, mandiamo la percentuale. La percentuale che risulta a me dopo tutto sto po' di cose è uguale a prima. Non è successo niente. Ragazzi, non è successo niente. 3,87%. Non è successo niente.